ciao ragazzi benvenuti sul canale di tecnologia dentatch oggi vedremo l'absan x4 cam h 107 c modello molto sfizioso molto molto carino forse fra i miei preferiti della versione 107 nella scatola troviamo un radiocomando batteria carica batterie eliche di ricambio e ovviamente il drone andiamo subito a collegarlo per vedere come vola come al solito faccio sempre video molto veloci queste batterie sono anche carine da vedere qui ok collegato c'è un pochino di vento quindi vediamo un po cosa riusciamo a fare come detto è una delle versioni mie preferite ne ho 107 lp questo è il c quindi in più anche la camera a 720 video carini niente cioè non si può chiedere niente anche perché ovviamente non vediamo in fpv ciò che stiamo riprendendo molto veloce proviamo l'expert mode o essi proviamo qualche flip molto 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 reattivo in expert mode se ne vuole per guidarlo sì sì portiamolo qui e andiamo subito con le considerazioni finali niente 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 da dire bellissimo poca spesa tantissima resa bisogna ovviamente avere un minimo di esperienza con i droni perché non ha alcun tipo di controllo né di altitudine né gps non può avere nulla costa relativamente poco una quarantina di euro vi lascio il link in descrizione veloce bellissimo unico difetto il difetto di tutti i 107 le eliche bisogna procurarsi diverse eliche in più queste batterie sapete che si trovano un paio di euro su internet se ne possono prendere una decina e da emozioni bellissimo bello bello veramente bello niente da dire bel modello se vi è piaciuto il video mettete mi piace iscrivetevi alla pagina se non vi è piaciuto fate lo stesso ciao ragazzi ciao